Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Varole, io sono Biazzacu e io sono Tatsunoff. E' tornata la lavagnetta tattica, sei contento? Sì, perché non l'abbiamo voluto fare nella scorsa partita, perché ci hanno messo... Noi non siamo abituati quest'anno a fare il partito ogni tre giorni, da sta calma. E' vero, calma, cioè noi dobbiamo fare tutti i nostri contenuti, se ci stanno fare una partita dietro l'altra non riusciamo. Quindi adesso siamo andati a prendere, ti ho preso, le azioni più interessanti viste in Milan-Napoli e le andiamo a commentare tutti quanti insieme. Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo. Se volete seguiteci su Instagram e TikTok, sempre senza Giri di Varole, ci chiamiamo, condividete questo canale anche agli altri, così ci aiutate a crescere. Oggi siamo arrivati a 7000 iscritti, bravi tutti, vai. Prima azione, che cazzissima, è stato ovviamente il gol di Romero Lukaku, andiamo a vedere com'è arrivato però. Mignon, che c'ha la palla in questo momento, è venuto fuori aria, con coraggio come fa sempre il buon Mike. Anguissa l'ha pressato e grazie alla posizione sbagliata di alcuni giocatori del Milan e anche a un passaggio sbagliato di Mignon, cioè da dirlo che l'ha fatto un pochino troppo forte, si è venuto a creare il recupero del Napoli, in questo modo. Con McTominay che legge bene l'azione, la situazione, e in scivolata riesce a rubare palla di prima al giocatore del Milan e riesce anche a servire Gilmour che si trovava lì nei paraggi, Gilmour è bravo con il primo controllo a dribblare, Rachmani che si ritrova in questa situazione particolarissima con tutti bloccati e l'unica via era Anguissa, cioè stavano tutti marcati, l'unica cosa che poteva fare era ricominciare passandola o a buongiorno a Di Lorenzo, invece lui è stato bravo a vedere Anguissa tra le linee e a servirlo subito, perché si era venuto a creare proprio il corridoio. La cosa affascinante è che se torniamo indietro, adesso ti faccio vedere, Lukaku che fino al passaggio di Rachmani per Anguissa era comunque in una posizione dove era abbastanza... cioè lo stavano marcando, ciao gli stava vicino, però quando ha visto, ci stava pure Pavlovich qua che stava bene pronto ad intervenire, però quando ha visto il passaggio di Rachmani, cosa è successo? Anguissa ha stoppato palla bene e gli si è aperto questo scenario, Pavlovich ci ha seguito Lukaku e quindi l'ha messo in gioco, fino a 5 secondi fa stava in fuorigioco il buon Lukaku, però grazie a questo movimento a scappare di Pavlovich l'ha rimesso in gioco, ciao e se non mi sbaglio questa era Fofana, non hanno seguito il movimento di Pavlovich e quindi si è venuto a creare proprio questa specie di K.O. tecnico, perché Anguissa si è ritrovato praticamente una via, una luce brillantissima per servire Lukaku che era in posizione regolarissima e Pavlovich che era nella situazione più sbagliata che si possa stare per il difensore, Lukaku poi è stato bravo ad allargarsi, Pavlovich ormai era troppo tardi, ha provato a recuperare con il contrasto, però Lukaku si è fatto trovare pronto, perché mentre Pavlovich veniva in corsa, lui si era già bello posizionato per mandarlo in da un match up e in bet, e poi giustamente Lukaku è stato bravo a gestire questa situazione, anche Freddo davanti Mignon che l'ha bucato sul primo palo. Nazione che alla fine nasce da una bella pressione di squadra, la determinazione di alcuni tipo McTomeny, la lucidità di Gilmour, l'intuizione di Rachmani e anche quella di Anguissa, che è stato l'unico che si è fatto trovare libero tra le linee, e anche Lukaku che nel duello uno contro uno, proprio da mestiere, ha fatto le scelte più giuste. La cosa veramente straordinaria di questa ricostruzione è che si vede proprio come il Napoli, al contrario di ciò che si pensi, non pratichi affatto un pressing conservativo, anzi semplicemente aspetta il momento in cui vede la vulnerabilità dell'avversario per poi aggredirlo in maniera estremamente aggressiva anche, solo che non lo fa partendo dal portiere senza ritegno, lo fa soltanto quando vede che l'avversario mostra una vulnerabilità. Sì, questo è un errore comune di molte persone, credono che il pressing sia uno e uno soltanto, e che parta solo ed esclusivamente dal portiere, che tu vai subito a pressare il portiere, invece ci sta pure, alcune squadre lo fanno in alcune situazioni di gara, la pressione e quindi il non attaccare direttamente l'uomo che porta palla e stare tutti lì fermi ad aspettare il passaggio. Quando il passaggio parte, allora parte il pressing improvviso, che l'avversario magari non si aspetta, in questo caso noi l'abbiamo sfruttato al meglio. Poi un'altra azione bellissima, secondo me, che è da sottolineare, è questa qui. Quindicesimo del primo tempo, se non erro, Chukueze che sfida Oliveira a duello, qui sulla fascia destra, e arriverà il doppio di Kvara. Kvara da dietro riesce ad aiutare Oliveira a sfilare, a rubare la palla a Chukueze, e da qui parte un contropiede in una situazione particolarissima, perché, cioè ragazzi, guardate quanti uomini stavano praticamente nei pressi dell'area di rigore, cioè stavamo in questo momento difendendo con tutti, c'era solo Lukaku in attacco, e da questa situazione abbiamo letteralmente ribaltato il campo, cioè abbiamo ribaltato la situazione, cioè da difensiva è diventata offensiva, con il Milan che ha pressato subito per cercare di non farci uscire, palla al piede. Qui la giocata mistica è stata fatta dal buon Oliveira, adesso lo andiamo a rivedere, perché... Qui tutti i giocatori del Milan stavano posizionati, ognuno stava tenendo un giocatore, stavano tutti coprendo bene, quindi in queste uscite dal basso, quando un giocatore prende con personalità la decisione di saltare l'uomo, se riesce a saltare l'uomo, poi fai cadere tutto il castello di carte del pressing avversario, e così è stato, perché Oliveira con coraggio sfida e duello, il buon Ciukweze lo supera, Ciukweze addirittura lo molla, perché Oliveira avanza con convinzione, Anghissà si stacca, Gilmour si era creato il corridoio per servire Gilmour, però è stato praticamente utilizzato come esca da Oliveira, perché appena si sono accorti che c'era il corridoio per Gilmour, hanno subito chiuso la porta, e chiudendo la porta Gilmour si è aperta la porta di Lorenzo, che è stato bravissimo a fare questo movimento, avviene dentro al campo, tra parentesi, non è la prima volta che commentiamo il movimento di Di Lorenzo, che poi viene praticamente dentro, e si crea questa giocata terzino-sinistro, terzino-destro, e grazie a questa giocata in particolare, si è riusciti a creare superiorità numerica, perché poi Di Lorenzo di prima serve Gilmour, Gilmour di prima serve Rachmani, Rachmani di prima serve Politano, ecco un'altra cosa bellissima, Politano chiuso ormai, Di Lorenzo che gli viene incontro, Gilmour che gli fa il movimento, Politano ha la lucidità di aspettare il movimento di Gilmour, e quando poi vede che lo attaccano, serve Gilmour, praticamente libero tra le linee, e Di Lorenzo non perde tempo, Di Lorenzo giustamente cerca di chiudere la triangolazione, che se Politano si sta tenendo i due giocatori del Milan, c'è qualcuno che la deve chiudere quella triangolazione, e quindi con un meccanismo perfetto parte Di Lorenzo, che attacca la profondità, e di prima serve Lukaku, che si è ritrovato praticamente con tre passaggi, nella metà campo del Milan, da solo davanti Mignon, qua poi è scattata la bandierina, e quindi è stato fuori gioco, però l'azione era stata fatta con i tempi giusti, Lukaku è finito in fuori gioco per qualche millimetro, poi vabbè qua è stato bravo pure Ciao, è pessimo Lukaku nel controllo, e quindi non si è conclusa in niente questa azione, però è un'azione veramente bella. E' un po' lo specchio di quello che noi abbiamo detto su questo Napoli, cioè recupera palla e va in verticale, è una squadra che a differenza di molte mode del momento, pensa così tanto in verticale, che riesce a cambiare le sorti di una squadra, attraverso soltanto un recupero palla, che poi subito si trasforma in un'azione volta a fare gol, ed è stata anche la forza dell'Inter dell'anno scorso peraltro, veramente con Lukaku un pochino più in forma, probabilmente questa scena sarebbe finita abbastanza diversamente. Poi, ovviamente dobbiamo rivedere il gol di Kviccia, prima lo riguardiamo invece da normale, vada là, prova a capire cosa sta succedendo, poi c'è, vada, poi arriva la palla, giustamente, Ktomeni ad Olivera, Olivera per Kvara, Kvara che si accentra, tutto bene, azione individuale è stata per molti, ok, gol, andiamola a vedere adesso nel dettaglio. Prima cosa, è ovviamente il duello aereo vinto da Gilmour, che fa notizia, perché è stato praticamente uno dei pochi che ha vinto Gilmour, in questa partita, Gilmour, quindi serve Anghissà di testa, Anghissà di testa, serve Politano, Di Lorenzo e Lukaku erano rimasti alti, perché eravamo andati a prestare alti, in una situazione, dopo un'azione che non si era conclusa nel milione dei modi, Lukaku e Di Lorenzo erano rimasti lì, tutti e due in fuorigioco, Politano riesce a recuperare palla servito da Anghissà, qui è affascinante vedere Lukaku che rimane in fuorigioco, non si capisce per quale motivo, perché qua Politano poteva anche trovando Lukaku libero servirlo, adesso lo andiamo anche a vedere, eccola qua, come puoi ben vedere, qui Politano ha, guarda quante scelte, si può appoggiare a Anghissà, può servire McTomeny come poi ha fatto, e se ci fosse stato Lukaku non in posizione di fuorigioco, poteva addirittura pensare di servire Lukaku, come per esempio era successo nell'occasione del gol, però Lukaku è rimasto passivo, nel frattempo vediamo Kvara libero, dall'altra parte, e fin qui tutto a posto, Lukaku veramente, una statuità, proprio il linguaggio del corpo, lui che stava caracollando per tornare in posizione regolare, poi, quindi, è arrivato il pallone a McTomeny, qua McTomeny fa una giocata non banale, perché 5-10 subito lo attacca, e lui con un gioco di suola, riesce a superare, a deludere il suo tentativo di recuperare il pallo, serve Olivera, perché giustamente, poteva servire direttamente Kvara, però io, c'ho McTomeny al fantacalcio, quindi non gli poteva far fare assist, quindi, la passa Olivera, così poi la passa lui a Kvara, così non rischio di fare assist, quindi, passa il pallone a Kvara, e qua succede un pochino, lo scacco matto, cioè, qui, c'è stato l'uno contro uno tra Kvara e Emerson, e a un certo punto Emerson molla Kvara, ma perché molla Kvara? Perché Olivera, non rimane con le mani in mano, ti fa un movimento ad attaccare la profondità, e Kvara poteva servire Olivera, quindi c'è stato un attimo di dubbio, che si è venuto a creare, grazie al movimento di Olivera, che è stato l'unico tra parentesi, a supportare Kvara in questa azione, tutti se lo sono guardato, McTomeny, Politana, chissà, lo stesso Lukau, tu anzi lo sono guardato, Kvara ormai c'ha questa cosa, che quando vedi che sta dribblando, va fammi vedere che fa, e invece Olivera ha detto, uomo lo aiuto, gli fa questo movimento, mette il dubbio sia in Fafanà, che in Ciukueze, per esempio Ciukueze lo segue Olivera, e quindi si crea il buco a centrocampo, Fafanà segue Olivera, perché non vede che c'era già andato Ciukueze, quindi entrambi vanno su Olivera, e rimane soltanto Musa o Fafanà, davanti a Kvara, Kvara poi con un'accelerazione lo brucia, e poi di prima intenzione, va subito a tirare, dopo aver dribblato Fafanà, quindi bello, veramente un'azione che, sì è stato un grande gesto di Kvara, però il supporto di Olivera, secondo me è stato importante. Sì sì, assolutamente, cioè uno dei motivi, ma in generale uno dei motivi per cui, il Milano ha avuto anche difficoltà di uscire, che il Napoli era tutto riversato, fuori dall'area di rigore del Milano, quindi non è che se tu esci su Kvara, allora devi ignorare tutti gli altri, quindi Kvara è stato molto bravo ad approfittarsi di una situazione che era ideale per tentare il tiro da lì, però in generale quando io ho sentito, vabbè questa è un'azione individuale, me l'aspettavo, ma quando io ho sentito c'è un errore grave da parte della difesa del Milano, la difesa del Milano se esce, si prende un bel rischio, perché il giocatore che esce per andare in pressing aggressivo su Kvara finisce per lasciare uno spazio, quindi Kvara così come si è inventato il tiro perché ha trovato lo spazio, poteva anche inventare l'imbucata, e poi in generale, cioè ci rendiamo conto il gol che ha fatto, non è che le difese possano prevedere che uno si mette a fano, uno tira 25 metri e arriva sotto all'angolino, quindi, errore, vabbè, perché Kvara subito golle d'errore, ma non è un errore della retroguardia del Milano, è semplicemente una prudezza di un giocatore che ti decide la gara perché c'ha i colpi per farlo. Poi, l'ultima azione che vediamo in questo video, e poi lo chiudiamo, c'è stata nel secondo tempo, intorno al sessantesimo, l'ennesima iniziativa di Chukueze che perde il duello con Buongiorno, che recupera palla, e da qui nasce per me l'azione più bella della partita. Cioè, guardate qua, Buongiorno recupera, serve McTominay, che di prima serve Olivera, che di prima serve Gilmour, di prima serve McTominay, di prima serve a chissà, e riescono in questo modo ad annullare, ad annichilire il pressing del Milan, che continua, perché poi, qui, è interessante, perché Gilmour, poi riceveva la d'anghissà, e qui poteva addirittura andare su Quara, c'era Lukaku libero, in un corridoio che si poteva sfruttare, c'era Di Lorenzo, qui Gilmour fa una cosina, sbagliata, secondo me, perché poi, va un pochino a rovinare, tutto quello che si era costruito qui, quindi torniamo indietro. Però poi è stata altrettanto brava la squadra a ricostruire per l'ennesima volta, e poi alla fine questa scelta di Gilmour, ma vediamo, andando avanti è stata, si è rivelata anche giusta, tra virgolette, per l'azione, per come si è conclusa l'azione, perché poi Rachmani serve Politano, Politano serve Anghissà, Anghissà qui fa una giocata clamorosa, penso che ve la ricordiate un po' tutti, lui che con l'uomo addosso lo aggira completamente, di fisico e tecnica, veramente una giocata non, cioè da evidenziaria di Anghissà, e qui poi il gesto più bello di tutti, Politano, e lo andiamo anche a vedere, che con un passaggio, cioè un bel lancio, verso Lukaku, va praticamente a mettere in scacco matto, la difesa del Milan, che si ritrova non scoperta di più, qui praticamente siamo in un 3 contro 2, perché sono rimasti soltanto Emerson e Ciao, e ci stanno Lukaku, McTominie e Kvara, attraverso e Kvara completamente libero, Lukaku che la spizza di testa, riesce a servire Kvara, e l'azione poi si conclude, proprio con Kvica, che dopo aver ricevuto palla, sfida, cerca di sfruttare tutto lo spazio che c'era, e bravo Emerson a ritornare, a recuperarlo, lui temporeggia, perché comunque sta arrivando McTominie, poi Lukaku nel frattempo sta tenendo a bada, l'altro difensore che era Pavlovich, e McTominie ha la possibilità di tirare, praticamente un calcio di rigore quasi in movimento, per Contromignon, e qui vabbè, poi Scott tira male, e il tiro va a lato, però cioè, se avesse segnato McTominie, questa era un'azione da incorniciare, cioè un'azione clamorosa, che è partita da sinistra, arrivata a destra, si è conclusa a sinistra, cioè una cosa assurda, veramente un'azione bellissima, e neanche poi con così tanti passaggi, con un miscuglio di passaggi corti, e di passaggi lunghi, che ti fanno veramente capire, che questo Napoli sa fare tutto, non è soltanto una squadra palleggiatrice, nel senso stretto del termine, che sa soltanto passarla corta, negli spazi stretti, ma sa passarla anche lunga, negli spazi larghi, perché come Politano trova Lukaku, e poi Lukaku trova Kovar, è veramente una bella cosa, cioè hai tagliato tutta la difesa del Milano, che era intento a rientrare, a farti pressing in uscita. No, ma da queste azioni, che per me sono state un poco evidenziate, perché poi del Napoli, che ha vinto questa partita contro il Milan, si sta semplicemente evidenziando la solidità difensiva, e comunque il cinismo, ma questo è calcio, cioè questo è bel gioco, al paese mio questo è bel gioco, cioè non c'è solo quel tipo di bel gioco, che tutti quanti si vogliono gonfiare la bocca, di questo possesso palla nella metà campo avversaria, cioè il bel gioco è anche questo, che parti dalla tua metà campo, e ribalti completamente un'azione da difensiva offensiva, passando da destra a sinistra, da sinistra a destra, con movimenti e contromovimenti, e sfruttando tutte le tipologie di passaggi, quindi passaggio lungo, passaggio corto, passaggio medio, non soltanto i passaggi corti e filtrante, oppure cross, cioè qua vai a sfruttare tutte le caratteristiche della tua squadra, e questo è fare calcio, questo è giocare a calcio, poi ognuno può dire la sua, sui gusti personali, però io accetto che si dica che quello è il bel gioco, ma bisogna anche che si accetti, che non c'è soltanto la tipologia di bel gioco, ce ne sono anche altre, che purtroppo non vengono più apprezzate come un tempo, come una volta, però io non vedo per cui dovrebbero essere meno belle, rispetto al bel gioco, di fatto di tanti passaggi e possesso palla, passaggino, passaggino, alla fine il calcio è bello perché è vario, e anche questo è bello, questo è bello, è una forzatura sostenere che non sia bello soltanto perché vive di un momento di appannaggio che hanno anche le altre strategie, solo che le altre strategie di cui tanto si decanta hanno una fase di appannaggio in cui si passano la palla fra di loro, senza concludere niente, difensori che magari fanno il giro da una parte o dall'altra del campo per addormentare la partita, passandosela in maniera sterile, e poi c'è chi come il Napoli quando vuole addormentare la partita si posiziona con un baricentro più basso, compatto, domina la gara da quel punto di vista, cioè che doma l'avversario, gestisce l'avversario, e poi esce in velocità, esattamente come una squadra che fa tanto possesso sterile, quando vede quello sbocco, verticalizza rapidamente, però appunto se uno mi deve dire che è necessariamente più bello uno o l'altro, io penso che semplicemente se le vite è un pochino in maniera superficiale, ecco. Semplicemente bisogna accettare il gusto degli altri, qua ormai non si, cioè questo viene solo identificato con una cosa brutta, cioè catenacce e controviede è una cosa brutta nel mondo in questo momento, c'è semplicemente un modo per fare bel calcio, e se non fai quel modo lì stai giocando male, però ragazzi fortunatamente non è così, fortunatamente non è così. Questo video può terminare qui, fateci sapere cosa ne pensate con un commento, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi, condividete il video così ci aiutate a crescere come canale, e forza Napoli sempre, adieu!